I lavori procedono tutt'altro che spediti, ma ogni volta che le ruspe intervengono sulla piana dell'Entella gli effetti si vedono e si sentono. Martedì mattina hanno scavato nella zona di via Garibaldi verso la Foce, è stato sollevato l'asfalto e sono stati abbattuti alcune serre che, ci dice un abitante della zona, non erano affatto abbandonate. Nell'area si trova poi l'ecocentro di cui il comune dovrà per forza fare a meno. Stiamo studiando, mettendo in opera un servizio alternativo ma temporaneo, cioè collocando dei mezzi in varie parti della città ancora da definire. Ci saranno dei costi anche in più per il comune, immagino? Non avendo individuato nessun'altra area nel comune di Lavagna, lo sappiamo che non ci sono aree che ci consentano di fare un ecocentro alternativo o anche temporaneo, per cui su tutto questo noi avremo sicuramente dei costi aggiuntivi, potrà essere che questo materiale in qualche modo non si avvia al riciclo che è praticamente abbastanza grave, quindi tutto diventa rifiuto. Il comune dice che chiederà alla città metropolitana di coprire eventuali costi in più, sottolinea poi che, pur avendo consegnato le aree per i lavori, non sono informati nei messi al corrente di come procedono i lavori e su quali zone. Intanto è sempre in corso il procedimento per il vincolo della Piana dell'Entella. Su quell'area, stante il procedimento di dichiarazione di pubblico interesse, in cui si è già espressa la Commissione regionale, vige un regime di salvaguardia, cioè il bene che è in corso di tutela va preservato. Poi è un criterio di buona logica, cioè non distruggere ciò che vai a tutelare, cosa che invece noi abbiamo denunciato e invece è già stata fatta in buona parte. Quindi su questo spero che non ci sia continuità.